44 minuti e 15 secondi Rilancio da parte di Duni il palo è destinato a Cassetti avanza ora Cassetti sta per genti fare in area di rigore ecco Marco Cassetti sta per genti fare in area di rigore cross è la liberazione ed è veramente una liberazione, ciuccia, ciuccia al dito capitano, ciuccia pure al dito del piede, 2 a 0, 2 a 0, una liberazione al 45esimo da parte del capitano, doppietta personale per lui, nono gol in campionato, l'azione da parte di Marco Cassetti, bravissimo, ha messo il più facile dei palloni sui piedi del capitano che ha messo alle spalle di Castellazzi al 45esimo del secondo tempo il gol da parte del capitano, un'autentica liberazione, finalmente tiriamo il sospiro di sollievo